Con gioia oggi inauguriamo questa nostra insegna all'ingresso di Torreglia. I ristoratori delle tavole taurigliane di Torreglia si prenderanno cura del grande rondò all'ingresso del comune dei Colli Ugani. Una sinergia tra pubblico e privato per fare squadra e rilanciare un territorio che dopo la pandemia vuole ritornare ad essere un punto di riferimento della ristorazione padovana. Per questo motivo all'interno dell'aiuola della Rotonda campeggiano i nomi dei ristoranti di Torreglia che fanno parte delle tavole taurigliane. Abbiamo pensato di utilizzare questa parte per fare una nostra pubblicità, anche un benvenuto a chi viene nel comune di Torreglia. Abbiamo anche coinvolto le varie associazioni, noi siamo l'associazione delle tavole taurigliane dei ristoranti a Torreglia e abbiamo anche poi coinvolto le altre associazioni tipo il FAI, tipo la strada del vino, il consorzio dei vini Colli Ugani e anche il consorzio Colli e Marketing di Avano e Montegrotto. Nel progetto di gestione della rotatoria collocata fra via Montegrotto e via Mattei rientrano anche il FAI, il consorzio dei vini dei Colli Ugani, la strada del vino Colli Ugani e Terme Consorzio Marketing. La Food Valley dei Colli Ugani!